Sono passati 22 anni da quel tragico giorno in cui perse la vita è Francesco Marcone, dirigente dell'ufficio del registro di Foggia. Il 31 marzo non è data tanto segnata nella famiglia Marcone, ma soprattutto nelle menti di tutti i cittadini di Capitanata. Francesco Marcone ha affrontato il malaffare, ha dato voce alla legalità e alla giustizia in un clima di omertà, ma ne ripagò con la vita, ne rientro a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Lo zittirono due colpi di pistola alla nuca. Oggi è il ricordo presso il monumento che ricorda Marcone e le vittime di mafia, a stringersi attorno alla famiglia i rappresentanti civili e militari e anche Don Luigi Ciotti, presidente dell'Associazione Libera. È un momento di memoria, ma anche di assunzione di maggiore responsabilità da parte di tutti. Lo chiediamo alle istituzioni, lo chiediamo al lavoro della magistratura, dalle forze di pulizia che fanno molto, ma lo dobbiamo chiedere anche noi come cittadini. Perché l'omertà è quella che uccide la speranza e che uccide questo bisogno di verità che è fondamentale. E le verità passeggiano per le vie delle nostre città. Quante verità! E su Marcone non si ha la verità. E quindi essere qui vuol dire proprio sentire, potente dentro di noi, di non dimenticarci che le verità passeggiano per le vie delle nostre città. C'è chi ha visto, c'è chi sa, c'è chi non parla. Abbiamo bisogno di verità. Allora è un momento di memoria, ma anche di responsabilità, di consapevolezza e di impegno. Se no c'è la retorica della memoria. È quella che noi non accettiamo e rispingiamo. perché le persone assassinate non sono morte per avere una lapide o una stele o per i discorsi di circostanza. Sono morte, non dimentichiamolo, per la nostra dignità, per la nostra libertà. Grazie. Grazie.